Fere quest'oggi l'assistente segreto ci ha schiaffato in una città piena zeppa di zombie E ci ha dato alcune regole che rendono il tutto molto complicato Oltre al fatto che Fere questa qua è una possibile serie Quindi Consolini se ci volete vedere affrontare ordate di zombie in una città praticamente ormai devastata Dove abbiamo soltanto una vita Lasciate un sacco di likes Perché infatti Fere le regole sono queste Non è una bella cosa Allora le regole sono queste I cuori della vita non si rigenerano da soli ma si rigenerano soltanto con delle bende E con i medikit Quindi se prendi dei danni sei già messo a male Devo dire va bene? Esatto Non posso abbiatare Steph Abbiamo soltanto una vita a testa Quando si muore è finita Quindi giusto per mettere poca ansia Siamo in questo momento in un treno circondati da zombie ovunque E li vedo già Guarda se t'ha facci li vedi già lì pronti No ma che è Vogliono sbranare Steph Sono due gatti stai tranquilla E dicevo dobbiamo arrivare fino a un rest house Che sarebbe una sorta di posto sicuro dove rifugiarci E l'ultima particolarità è che noi non possiamo fermarci con la registrazione e col giocare Finchè non raggiungiamo ogni volta la nostra meta Quindi complica ancora tutto di più Quindi in pratica dobbiamo cercare di sopravvivere finchè non raggiungiamo un posto sicuro In cui poter staccare per poi continuare nell'episodio dopo Esattamente L'episodio dopo avrei bisogno di esplorare le altre parti della città Cercare cibo Cercare armi E così via Allora Perché lo stiamo facendo Steph? Eh non lo so L'assistente segreto mi ha detto Ok Che dovremmo avere una cassa testa da queste parti Infatti eccola qua Eccola qui Con il nostro equipaggiamento Dovrebbe essere stata abbastanza gentile Abbiamo un po' di fucili Un po' di bende Un po' di cose Speriamo di potercela cavare Allora Anche due pezzi di armatura ho notato Tante munizioni Che spero possano essere utili Io mi tengo C'è tante munizioni Il fucile a pompa come prima arma Che secondo me è fondamentale Anche secondo me Hai anche il macette Quindi mi raccomando ricordati Ok Come il macette? Il piccone? No anche il macette Ah non l'avevo visto Oh Se finisci i colpi Allora me lo metto qua Poi così 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 Ok Mi tengo queste qua vicino Ok Il piccone in diamante Che sicuramente sarà molto utile Ora indosso l'armatura Fammi vedere quanto sono fantastica Sì sono fantastica E ti consiglio anche di ricaricare tutte le armi Ah giusto Me lo sto dimenticando Lo so Possiamo rompere gli spawner di zombie In modo tale da cercare piano piano Di diminuirle nella zona Beh perlomeno nelle zone in cui siamo noi Perché se no qui diventa l'inferno più assoluto Un po' come Walking Dead Che fai le zone protette Senza più gli zombie no? Sì esatto Io sto cercando un po' Di giocarmela a livello strategico Ma perché stai spaccando tutto Steph? Ok Perché non voglio uscire dalla porta Ma hai visto quanta gente c'è? Eh io volevo uscire dalla porta Ah 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 Sì sei simpatica Certo Steph Certo Ora capisci perché Che facciamo? Perché sono salito sul treno Fare qua ci serve una granata più che Sì decisamente Più che un fucile a pompa Cioè io li sto anche uccidendo Ma Steph è un po' troppo tutto questo Cioè mi aspettavo che l'invasione zombie Ma un po' più serena Non così Ma sto trascinando i colpi Cioè oh mamma mia Steph Io sto cercando di capire un pochino Come ricaricare questo fucile a pompa Ma mi mancano solo due colpi Quindi Non so bene come fare francamente Cioè ho finito Ok Wow Allora aspetta però Se io rompo Uno di qui Riusciamo a prendere tipo A macetate Brava È un po' brutto da dire È un po' Un po' da vigliacchi Sicuramente Quanti sono secondo te? Tanti Una cinquantina? Uè Guarda Steph come le colpisco Sì sicuramente Ma tu sei molto Ah Perché ti amici Però non riescano a prendermi Guarda Steph Bene se ti prendono Ti tocca causare una benda Perché non c'è il regen Quindi Lo so Sono perfetta Ovviamente Consolini vi potrà anche sembrare Quasi semplice questo avio Ma prima di tutto Il macete ce lo rompiamo E non ne abbiamo altri Abbiamo già finito le munizioni Del fucile a pompa E a un certo punto Da questo treno Dobbiamo scendere Perché altrimenti È quello il problema Nel posto per finire Il primo episodio Non ci arriviamo Esatto È quando scendi il problema Già Quindi per ora ci stiamo correndo Diciamo un po' Allora bisogna finirli E poi essere velocissimi A distruggere Esatto Questi spawner Che ci sono qui sotto Perché se no Quando la finiamo più Steph Cioè il macete ho visto Che non è che dura Così tanto Quindi Ti posso dare un'altra notizia? No Bastano così Steph Gli zombie non saranno L'unico problema Che avremo in questa serie Perché l'assistente segreto No Ne stanno uscendo altri Già Allora io fra poco Scendo comunque Ok Dicevo l'assistente segreto È decisa di uccingere Anche i banditi Con i fucili Che ci sparano Come The Walking Dead Ci sparano Pure Sono armati di pistole Come se non bastasse Come se non fosse già triste Essere finiti in questa città Ok Infestato dagli zombie Che appena sono sceso Mi era spawnato uno zombie piccolino Che mi stava cercando di attaccare Ok vai Steph Ti sto proteggendo vai Ok Spacca tutto Dietro di te Steph Dietro di te È pieno dentro la stazione Dove dobbiamo entrare Oh cavolo Eh ma ce ne sono anche lì Anche quello spawner Dobbiamo distruggere Secondo me Aspetta Li sparo Zombie Vai Fere Ok Sei bravissima Eh però sto praticamente Finendo sempre i colpi Cioè non è che Infatti io ho smesso di utilizzarli Al momento Ok Ok tu volevi scappare L'avevo capito Ok Eh va bene Dai Cioè mi mancava mezzo secondo Ok Ho perso un cuore Lanciandomi dalla metro Davvero Sì devo ricordarmi Di non avere tutta questa enfasi In questa serie Steph Ci sta Perché in effetti Poi non sto minimamente Recuperando il mio cuoricino Quindi Ti avevo avvisato Vabbè Hai delle bende E un medikit Credo che le bende Ti possano curare Tipo di tre cuori Mentre il medikit Di sei Eh per un cuoricino Mi sta che aspetto Sì Aspetto Io aspetterei Ok Ok Allora abbiamo tolto Tutti gli spawner In questo momento Il problema è che Noi dobbiamo entrare qua Allora Posso fare una scena da film Ho una KM Non ho paura usarlo Vai Steph Davvero non l'hai ricaricato Guarda in alto a destra Sì che l'ho ricaricato Dicendo magazine Cosa L'avevo premuto R Scusami Ah ho preso mezzo cuore di danno Perché ti stavo guardando Non mi guardare Ok allora Ti apro la Perché continuano a spawnare Qua fuori Steph Credo perché non hanno più spazio Lì dentro Ti apro la porta e tu spari Ok Vai Ok Ok Piano piano Eh così consumano tanti colpi Fa una bella raffica Io sto rompendo il macete Io sto rompendo il macete Se non riusciamo ad entrare Continueranno a essere praticamente Infiniti Esatto Dai ricarica Ok Aia Un cuore e mezzo per me è andato No ho finito i colpi Steph Penso di tutto Aspetta un po' di fucile a pompa Ok Ok Questo mi è spawnato in faccia Che paura Ok Tutto a posto Sì ce la sto facendo Cioè io mi sto finendo del lato sinistro Sto pensando soltanto di fronte a me Sì sì vai vai Anche se ho finito i colpi Quindi adesso vado a macete Ok Entro Ok Sono dentro Steph Ho visto Mamma mia Ok Dove sono? Dov'è? 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 Eccolo qua Eccolo qua Vado Ok Aspetta c'è un altro qui E ci sono anche altri zombie Quindi coprimi Steph No 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 Vai via Vai via Non posso Non mi uccidere Non mi uccidere Che gli zombie piccolini li odio Steph mi sta facendo perdere un sacco di vita Chiudi Allora secondo me è una benda è meglio usarla Ok chiudi le porte Chiudi le porte Ok Io ho sentito un pochino di questa benda Oh mamma mia Steph No 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 Vai via Chi ho dietro? Zombie piccoli Zombie piccoli Steph Lo sto Sparalo Sparalo Ok Allora calmi tutti Cerco di rompere gli spawni Hai visto la La biglietteria Steph? No Cioè sì Non guardarla Non guardarla Sto cercando di dimenticare Non guardarla Ok Manca uno spawner E qua abbiamo finito Cansi è difficilissimo Ok Ah Ok Tutto a posto? Allora ho trovato C'era una cesta qui Ho trovato un po' di cibo E un'armatura Che dovrebbe essere un po' più forte della mia Ok Ottima notizia Perfetto Ho trovato un plaster Penso dagli zombie Guarda che carino che sono Che cos'è il plaster? Non lo so Ok 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 Però sono carinissimo Allora io mi tiro un po' di benda Anch'io vado Ok Praticamente la puoi utilizzare più di una volta Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo E ti rigenerò un po' di cuori Mi sta rigenerando Ok Per ora va bene così Ok Anche se Steph Com'è il tuo macete? Rotto Il mio mi manca un tantino così per romperlo Cioè No il mio è rotto E non abbiamo più proiettili Col plaster secondo te posso pestare? Non credo No non credo Però qua dice che c'è l'uscita Quindi non abbiamo bisogno di andare alla biglietteria Io qua nel dubbio rompo subito gli spawner Un attimino Scusami ma Va bene Non è possibile Ok Qua ci fai due zombie a tua destra Sembra che non possono venire Ok E che forse qui dentro c'è altro equipaggiamento Posso controllare al volo? Allora fai attenzione perché altrimenti ci torniamo Un altro giorno Se tu vedi Li sto chiudendo le porte E loro non possono fare nulla Devi stare attento a guardarti intorno E controllare se ci sono altri spawner Guarda qua Maledetti È pieno di spawner Esatto Esatto Rotto rotto Giustamente Però guarda qui Ho trovato una pistola Con due colpi Cioè con due caricatori Va bene va bene Meglio di niente E me lo metto al posto del fucile a pompa Che tanto al momento ce lo scarico Ok in bagno non c'è nessuno E c'è una cesta Anche qua pistola con due caricatori Mettitela al posto del pompa Se l'hai scaricata anche tu Sì ovviamente ovviamente Fai ma qua c'è da uno spawner Stai attenta Oh cavolo Se ti spawnava qualcuno in bagno Era un disastro Era la fine Che dici? Ci teniamo i colpi O proviamo a prendere la cesta Che c'è dentro la biglietteria? Proviamoci dai No forse no Fere Dai No 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 Perché? Perché rischiamo di finire i colpi Di non averne abbastanza per qua fuori Ok Dove alla fine credo che abbiamo ancora Tanta roba Allora qui c'è un cartello Steph Safe room Esatto Quindi penso che sia Ma aspetta Che succede lì? Chi è? Non lo so vedo Ok Non capisco Ma tu quanto macete hai? Dai ancora un po' comunque Pochissimo No non è male Allora Steph penso che siano delle persone Che hanno bisogno di aiuto Sì ma quello è un pupazzo di neve Eh vabbè No penso che siano due Che ci sia un civile normale Un pupazzo di neve E poi ce l'hai contro i pupazzi di neve Steph che dici? Non vogliono essere salvati agli zombie? Certo che vogliono essere salvati Non lo so Sono solo che questa pistola Fa un po' schifo Ovviamente Ovviamente Oh cavolo Oh cavolo Ok Ok Tu pensa a quello lì? Io sto ammazzando già gli altri? Sì 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 Sto già finendo i colpi Però io tanto non ho macette Non posso fare un granché Ascolta cerco di dire Per il piccolino No No il piccolino li odio Fermo qua Fermo qua Ok Penso che mi abbia sparato tu Mi puoi sparare? Sì perché ho metà vita Anche secondo me Cioè metà cuore proprio totalmente Metà vita di cuore assurdo Anche secondo me ti ho preso Fer Anche secondo me Dove essere sincero Sparato a me sì che lo zombie Voglio essere sincero con te Va bene Steph Sei un ottimo compagno Vado a distruggere quello Uh qua ce ne sono ben due Io ho rotto alcuni spawner Steph aiuto sto morendo Dove sei Fer? Qui No ce la faccio No 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 Mi devo tirare delle bende Vai a tirarti le bende grazie Mi hai lasciato troppo basso Steph Ti sei curata sì? Sì sì sono a posto Allora dobbiamo entrare dentro la casa Che dici Steph li abbiamo salvati? Sì si arrangiano Cioè qui ognuno pensa per sé In effetti no? Cioè sinceramente in una roba di apocalisse sì Allora dicevo la casa è tutta infestata Quindi dobbiamo Sì 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 Dobbiamo Esatto Togliere tutti questi C'era un creeper Oh ca... Come un creeper? Sì Ma che ci fa un creeper? Non lo so Voleva essere il protagonista dell'invasione zombie a quanto pare Ok Ok allora seguimi perché dobbiamo continuare a rompere tutti gli spawner Ho trovato un cartello Steph che dice safe room sopra le scale Ok però E lì dietro il cartello Sistemiamo un attimo Sì dice la stessa cosa Oh mamma mia Ok tranquilla 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 La capa è bestiale Io comunque fuori Mentre mi stavo curando Gli ho visti i banditi eh Davvero? Eh mi stavano guardando da lontano ma mi guardavano È preoccupante Hanno proprio la fascia da bandito E sono armati Hanno proprio pistole Te l'ho detto Hanno le pistole e ti sparano Non è semplice Guarda che se ti avvicini un pochettino a quelli ti distruggono eh Lo so lo so Ok c'era un altro spawner l'ho rotto Questo l'ho ammazzato Ok Purtroppo non ho visto altre ceste Fammi vedere se qua c'è qualcosa No Ok Non è che sia proprio bello il nostro equipaggiamento eh No no assolutamente no Anche l'assistente segreto è esagerato Abbiamo dei blocchi? No Vorrei tappare l'ingresso Perché secondo me ne continuano ad entrare Capisci? No no stanno arrivando da sopra dove noi dobbiamo andare Fere È chiaro come so Ma ho paura che poi entrino Vabbè dai Infatti ci sono spawner Ok Cerco di romperli Sì 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 Ok 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 Qua è tutto chiuso Però aspetta nel balcone non li voglio Ci mancano solo quelli dal balcone che vanno nella piscina Era anche carina sta casa tanto tempo fa Eh sì Prima dell'invasione sicuramente lo era Una bella casa E poi una super villa Due piani Ci sei Steph? Che succede? Che ho trovato zombie in una cameretta E secondo me qua c'è del loot C'è qualcosa? Secondo me sì Ok Aspetta che rompo questo Ok io controllo le spalle che non arrivi qualcun altro Cosa? È quello che penso Chi hai trovato? Uoooooooh Una roba per vedere la notte Mi guarda la Mi vedi con la visiera? Uuuuh Sì ti vedo Che figo Che figo Sì Steph Lo so Fere è una figata Sì sì Ok Vabbè Ce l'abbiamo fatta Sì frum Scusami Fere Che hai fatto? Oh Ho rotto il macete Fere dammi la mano Fere mi stai uccidendo tu Togliti Togliti Anche a me si sta rompendo comunque L'ho buttato di sotto Sì vabbè Io mi curo un attimo Vai curati Curati Cioè Sono rimasto a due cuori È lì è lì è lì È morto Spaccato totalmente Ok Ok ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Entriamo qua No Fere c'è qualcuno Perché la safe room abbiamo finito Ma c'è qualcuno dentro Io non ho colpi E sto visiere fa più 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 casino che altro Riesco a sparare la terrore sulla porta? Non credo No Non funziona Quanta vita hai? Allora no è massima Però non Vado te lo apro? Vai Ok Apri Ce l'hai fatta? Sì è morto Posso entrare? Hanno sparati un botto Hanno sparati un botto Sì la pistola fa schifo Non fa danno Allora Chiudiamo tutto Le porte sono blindate Steph Basta Guarda ho anche trovato prima Distruggendo la casa Un bel quadretto Chi ci metto? No oddio è troppo brutto Non lo posso Fere che stai a fare? Volevo mettere un quadretto Eh vabbè ma esci piccolo Ho trovato un quadretto Mentre stavamo distruggendo casa E volevo commemorare Il nostro La nostra riuscita di questa missione Sì Fere ma tanto questo è solo un rifugio provvisorio Cioè non ci devi restare qua Quindi è inutile che metti i quadri Noi qua possiamo staccare Ma dopodiché da qui si ripartirà E dovremo andare avanti Ovviamente E quindi saranno guai Bello Ok quindi Ci fermiamo così Consolini fateci sapere se volete una serie Appunto supportate tantissimo Con likes Commenti Sondaggi Eccetera eccetera Se ci volete vedere Continuare ad andare avanti In questa serie Dove abbiamo soltanto una vita Dobbiamo affrontare ordate di zombie Che sembrano tipo Super mega infinite Esatto Vi lasciamo con altri video Che potete cliccare tipo qui sotto Da qualche parte Li metteremo tipo lì Bellissimi Bellissimi Se non vi siete ancora iscritti al canale Fatelo E ci fermiamo Così Così